Sette interventi che daranno impulso a Montalto e al suo territorio nel percorso di ricostruzione e rilancio post-terremoto. Un risultato importante frutto della capacità dell'amministrazione di cogliere le opportunità offerte dai fondi sisma e da quelli messi a disposizione dal PNRR. Come ha sottolineato il commissario Castelli, nel corso dell'incontro tenutosi nella città di Sisto Quinto per presentare progetti che riguardano centro storico e frazioni, abitazioni, municipio, scuola, rigenerazione urbana e cimitero perché anche il culto dei morti è stato offeso in questo territorio. Lavori già in corso e altri per cui stanno partendo le gare di affidamento. Ma la ricostruzione da sola non basta, ridare vita ad un territorio ferito da anni e così anche per la rinascita si lavora progetti che mirano a riportare le persone a vivere in queste aree. Dal centro storico aperto a giovani coppie che vorranno vivere nel Cassero all'ex Cardinal Sacconi, edificio del centro che sarà adibito a polo socio-sanitario e poi il miglioramento della viabilità rurale e il progetto EVA per la valorizzazione della produzione ortofrutticola della Valdaso. In quest'ambito il CIS, il contratto istituale di sviluppo, si inserisce nel nostro territorio, nella Valdaso. Abbiamo ottenuto un importante finanziamento per realizzare questo centro che da una parte vedrà uno spazio dedicato per le attività di stoccaggio e lavorazione della materia prima della valle, ma dall'altra vedrà degli spazi da destinare alla formazione, alla ricerca e a tante altre attività collaterali per i nostri agricoltori. Idee chiare su come mettere insieme i finanziamenti in un piano integrato che coinvolga tutto il territorio. Cont'altro, oltre che il grande merito di aver ottenuto un finanziamento più importante della strategia dei borghi è riuscito a coordinare l'attività, riconnesse per l'appunto a questa progettazione, ma anche più in generale al Sisma, in un'idea di rifunzionalizzazione dei servizi e della città. A Montalto il commissario Castelli parla anche di impegno per il rifinanziamento della zona franca urbana, per il sostegno alle imprese e di come la ricostruzione proceda a grandi passi, con 1.500 opere pubbliche già finanziate nella regione e l'80% dei lavori già avviati, tanti cantieri per una spinta unitaria. È una fioritura che dobbiamo tuttavia secondare con attenzione, con scrupolo, perché la ricostruzione, sono solito definirla, una creatura viva, nel senso che risente molto di quelle che sono le interferenze della realtà e quindi va ascoltata, secondata e, se possibile, guidata.